Ciao, benvenuti sul nostro canale YouTube. Sono Linda Hoisla e vi invito cordialmente alla nostra conferenza informativa che si terrà su YouTube, Facebook e Instagram. In questa conferenza parleremo della vita di Bruno Gröning, assorbiremo insieme la forza e presenteremo in modo dettagliato il suo insegnamento. Cosa disse lui allora e che significato ha questo per noi oggi? In questa conferenza informativa tre medici parleranno delle loro esperienze e documenteranno alcune guarigioni dal punto di vista medico offrendovi una prospettiva nuova. La retrospettiva di ieri e lo sguardo di oggi vi daranno una bella panoramica sul circolo degli amici di Bruno Gröning. Vedrete guarigioni documentate da medici e potrete farvi un'idea della vita e dell'insegnamento di Bruno Gröning. Per l'intera conferenza un moderatore vi consentirà di partecipare con tutto il vostro cuore. La premiere si terrà prossimamente su YouTube e siete tutti cordialmente invitati. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.